In strada Nilo Tricarico il primo test della stagione? Sì, il primo test dopo tanto tempo e si è visto tutto e siamo contenti di essere partiti in anticipo perché il lavoro da fare per tornare a essere quelli che pensiamo di essere è lungo, la strada è complicata ma cerchiamo di mettere le basi, sicuramente l'amichevole di oggi ci rende consapevoli della strada e del percorso che bisogna continuare a fare per rimettersi a posto perché il lungo stop è inutile nascondersi, si sente e quella che abbiamo fatto oggi è una partita con ritmi troppo blandi con tantissimi errori contro sicuramente una buona squadra che sarà protagonista in eccellenza ma se noi vogliamo far bene nella categoria che ci aspetta dobbiamo migliorare, dobbiamo farlo senza fretta ma senza sosta perché ripeto, un percorso per metterci a posto ed essere competitivi vedi ancora tanti step che stiamo affrontando un passo alla volta ma c'è ancora tanto da fare Adesso la sosta e poi si riprende lunedì? Sì, adesso stacchiamo un attimo e ripartiamo lunedì continuando a lavorare come stiamo facendo dal 22 luglio siamo convinti che il lavoro paghi, ci crediamo e lo dimostriamo coi fatti lavorando non so se meglio degli altri perché non sta a noi dirlo ma sicuramente più di tutti e siamo convinti che questo duro lavoro a lunga ci premierà Il prossimo allenamento al congiunto? Giovedì e poi domenica Va bene, grazie mille, buon lavoro Grazie mille